E' crollato perché non è stata fatta bene a norma, il restauro evidentemente non è stata fatta come dovuto, sicuramente è così. Dispiace, però dall'altra parte siamo fortunati che non è successo durante l'anno scolastico, perché se succedeva durante l'anno scolastico quando i bambini stanno qua non si sarebbe salvato nessuno credo.